Per quelle imprese che hanno un'alta percentuale di lavoratori in rapporto al loro fatturato, oltre a una certa percentuale, ogni lavoratore che assumi hai una deduzione doppia rispetto al costo di quel lavoratore. Allora, lo dica così, più assumi, meno paghi. E la proposta cardine di Fratelli d'Italia sul tema della tassazione, semplificando che più assumi, meno paghi, cioè io penso che sarebbe un segnale importante applicare una super deduzione sul costo del lavoro alle imprese che hanno un'alta percentuale di manodopera in rapporto al loro fatturato. La principale delle nostre proposte è sulla tassazione più assumi, meno paghi, cioè una super deduzione del costo del lavoro per chi ha un'alta quantità di dipendenti in rapporto al proprio fatturato. Speriamo che ci sia diritto di cittadinanza per le nostre idee. Più assumi, meno paghi. In buona sostanza noi introduciamo per le imprese una super deduzione pari al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, arriva fino al 130% per chi assume mamme, andrer 30, percettori di reddito di cittadinanza e persone con invalidità. Se tu fai una tassazione che incentiva all'assunzione, il famoso più assumi meno paghi, cioè più è alta l'incidenza di lavoratori in rapporto al fatturato meno tasse devi allo Stato, le aziende sono portate ad assumere. Grazie. 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 Grazie.